Aurelio Ricciardelli, Casola Valsenio, Ravenna Era l'agosto del 1944, pochi giorni prima di Ferragosto. La mia brigata, la 36esima Garibaldi Alessandro Bianconcini, era dislocata nell'alta valle del rio Rovigo, nell'appennino Tosco-Romagnolo, nelle retrovie della linea gotica. In tutto 800 partigiani comandati da Luigi Tinti, Bob, Da alcuni giorni la zona era investita da un fitto cannoneggiamento tedesco che impediva qualunque movimento, e ogni giorno il cibo diventava sempre più scarso. Il comandante di brigata, che sapeva della mia conoscenza del territorio, soprattutto del versante romagnolo, mi ordinò di uscire dall'accerchiamento. Dovevo reperire viveri. A cavallo, inseguito dal fragore delle fucilate tedesche, riuscì ad attraversare le linee nemiche. Al mulino della Gattara, nei pressi di Mercatale, sapevo di poter trovare farina sufficiente, quella a mercato nero che il mugnaio aveva accumulato. Anche quel mulino, come tutti gli altri della zona, era sorvegliato da un fascista della Repubblica Sociale. Ci andavano volontari a fare quel tipo di servizio, ben contenti di interrompere la sorveglianza in cambio di qualche chilo di farina. E così accadde in quel caso. Riuscì a contattare il mugnaio che fece in modo di far allontanare il milite repubblichino. E con i soldi che mi aveva dato il commissario di brigata, Guido Gualandi, detto il Moro, comprai sei sacchi di farina, ma per trasportarla i muli del mugnaio non bastavano. Chiesi allora l'aiuto di due mezzadri che abitavano lì vicino, che vennero con i loro asini. Partimmo con i muli e gli asini carichi dei sacchi di farina. Io andai avanti, a cavallo, per avvisare i primi mezzadri, ma poi fu un passaparola. Sta arrivando la farina per fare il pane per i partigiani. La mobilitazione fu generale. Uomini, donne e ragazzi impegnati a lavorare per preparare e cuocere il pane che la mattina dopo avrebbero dovuto portare a Rimirara di Valsalva, dove nel frattempo si sarebbe concentrata la 36esima brigata Garibaldi. La mattina seguente i contadini si mossero tutti insieme, con il pane caricato a spalla o sugli animali da Soma, fino oltre il crinale per raggiungere Rimirara nella parrocchia di Valsalva. Io ero lì ad aspettarli, e arrivarono con centinaia di pagnotte. Quella stessa mattina arrivarono anche i partigiani della brigata. Ad attenderli trovarono il pane dei contadini. Il pericolo per i contadini era grande. Sarebbe bastata una soffiata, una spiata ai fascisti per esporre ognuno di loro al rischio di una rappresaglia. Senza la collaborazione di questa gente, poverissima ma ricca di una dignità e di un coraggio straordinari, la nostra vita, la vita della brigata, sarebbe stata impossibile. Accadeva lo stesso ovunque ci fosse un partigiano. Se non fosse stato così, la storia della resistenza avrebbe preso un altro corso.